Comincia domani il servizio di pulizia e guardiania dei sottopassi che attraversano la città di Nocero Inferiore, un progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale realizzato grazie al sostegno del piano di zona. Abbiamo fatto questo progetto come amministrazione, il sindaco l'ha voluto tanto, io l'ho voluto. Magari le famiglie sono più sicure quando i pori figli attraversano la città da una parte e dall'altra. Che cosa prevede questa iniziativa che ricordiamo è realizzata in collaborazione col piano di zona? Sì, è realizzata in rete perché il progetto è di ambito, quindi i fondi sono regionali. Il progetto durerà sei mesi, i ragazzi faranno sia la custodia che la pulizia dei sottopassi.